La rete, il capo della rete, indicando anche quelli che portavano fuori il segreto, che era l'acqua del settore di Levante, quindi dalla via Castiglione fino al dietro, questa è questa zona che era servita dall'acqua che ci ha, noi non c'è niente, non c'è niente, era un po' di difesa, quando nel 1274, quindi io stavo con tutti i giorni nella vostra testa, ma le date sono in distanza, sicura la battaglia tra Germania e l'attentante, cioè tra il popolo delle arti, e i signori che li chiamavano imbagnati, che è un attimo, no, la battaglia tra i bambini del lavoro, c'è un attimo, cambia il petito, noi abbiamo, io non so, a volte mi vogliono lanciare un'attaccia, una volta che non c'è, però la battaglia staglierebbe un attimo, e come potrebbe fare? E queste persone fattivano la battaglia anche in un modo intelligente, perché si spruivano, cercavano di capire, cercavano di imparare, ma non vogliono studiare il regno, la battaglia anche in un'attaccia, il corpo di San Lorenzo, l'Ars Fontana, per esempio, a voler nasce l'Ars Fontana, nel 1215, a voler radierò una peluccia, di una settimana, o qualcosa che ha a favore, perché sono tutti, sono decine e decine i fatti che hanno dedicato voi. A voler venuto guardare i piedi, a voler manate nello stile nuovo, quindi voi è qualche anniversario nel mio storio e nella stile in cultura, stanno avrete lo stimo, cerco di gioievo, di toglieri, di toglieri, d'amite, sono 345 e loro lavoro, perché si andava provando a studiare. Via dell'orto, era l'orto di San Domenico, quello che nasce da un piccolo poeti, il piccolo dell'orto, poi muove contro alcuni figli. E' l'orto di San Domenico, che era la prima divina del Comunità. Però, subito, con San Domenico, ha comisato una basilica, dove c'è la nata, che è un momento. Noi, a figlia è la professione dell'orto di San Domenico, solo che molto professoressa, non ignoriamo queste cose. L'escoe, secondo l'altà, nel 1239, lui ha fatto che c'era questa ragazza, che andava sempre vestita con il mondo di vivere, e diceva, ma va bene, lei non aveva la passione per il calcio, per la fata mangiata, no, lei voleva sapere. Ma, a un bel momento, siccome era bravo, qualcuno comincia a dire, ma noi veniamo in casa del cuore, facciamo come vogliamo, usciamo nel tuo calcio, ci pagliamo, e ha fatto questo lavoro. Questo è arrivato a un regio, anche nel 1239, ma la parola di arrivato alla fata, ma la parola di arrivato alla fata, non è che uno di questi due, non è il nuovo, no. No, possiamo farlo, diciamo, nel 1239, lui va costruito l'ingegnero ad verbus. La parola di lui, la scala dei brutoni, la parola di lui, e il diritto, quindi a altri. Questo è il regolamento di, no, tu vai a essere male, ma io non ho, non hai, ma è la parola di risposta. Le risposte, le risposte, le risposte, le risposte, le risposte, le risposte, le risposte. Il comune, radiosi e la fiera di una risposta, tu, i figli e i loro metodi, fai una relazione fuori. Questo è un caso di un regolo, di un regolo, di un regolo, anche come oratore, e questa partita, il regolo, cosa va? Ora, io, non mi voglio fare, ma non non è che la stagione, si, si, si... ...e, chi ne ha mai detto, ma non mi importa. No, ma tu, tu ti è presto, con uno, mi è il nostro, tu, tu. Io non sono molto entusiasmato, però lui crede che qualcuno vi ha spiegato cose del indirizzo della vita e ha imposto che era un concerto con l'alanzo per l'alanzo di l'alanzo, che la piazza per l'alanzo è un nuovo, come un sede che ha avuto la l'alanzo di l'alanzo di l'alanzo. E' insieme a 4 o 4 secondi, fatto da un notario di ogni quartiere, ogni quartiere che sono a casa, ogni notario ha redatto l'elenco di coloro che sono stati liberati da un'estate di 50 a 60 anni. Perché è scritto, loro scrivono i notari, nella prima parola che dice il notario Sclavini, che era il notario della Forza Popola, che è quella che adesso stanno a morte. La prima parola è tale che si sta con i livelli e l'elenco dei 5.865 servi della prima. Per la prima parola è comunale. Quando vendevano un pollo, vendevano un pollo per gli animali, con i piante e con i avvicini, con i piante e con i piante e con i piante. Il Consiglio Comunale di Bologna è quello che sta. Quando io penso che abbiamo un pollo di fare 5 minuti della delizione del fatto di risposta a volontà, come siamo a volontà che il Consiglio Comunale di Bologna ha deciso, hanno una vita, di riscattare 5.170 euro. Pagando che cosa? Non in un'ambiente non in un'ambiente, no, no. 10.000 di sopra i 14 anni si mettono la decisione per la di Bologna. Sotto 8 del resto Manifero. Sotto il resto di Mura. I 360-380 portecali di la Bologna e la Bologna, per esempio, non viene di tratti di Mura. Nessuno di loro ha fatto di loro. Hanno accettato. Quello che il Comune dell'Avris è il primo atto al mondo di di una liberazione di colpi di tutta la Bologna. Perché prima c'era qualche don, mia donna, o qualche uomo più, che liberava il nostro schiavo per il loro senso del suo comportamento. Era uno. Due. L'antica mio ho detto che ci sono stati di trattamento. Sono stati 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 stat Grazie a tutti